Exoraptics, neopatentati in cerca dell'auto perfetta? Venite con me, vi presento questa Fiat 500, 1.2 di cilindrata a 69 cavalli, appunto perfetta per i neopatentati. Questa nella versione del 2020, 23.000 km, in questo bianco pazzesco. È pratica e comoda perché è molto compatta, ma comunque ben spaziosa perché ha un bel vano bagaglio e anche il ruotino di scorta. Quattro posti e poi tre porte, quindi i sedili vanno reclinati per accedere al vano posteriore. E comunque i sedili posteriori sono dotati di ganci Isofix anche per i seggiolini dei più piccoli. Lato guida, dallo schermo andiamo a gestire tutte le varie impostazioni del veicolo e poi ci sono i comandi al volante per le chiamate in totale sicurezza, quindi molto molto sicura anche appunto per i neopatentati. E in più una bella chicca. Questa è la modalità City per aiutare col servo sterzo, che diventa ancora più leggero rispetto a quello che già è, per i parcheggi più complicati, molto molto pratico. Il cambio è un pratico manuale. Ecco Fiat 500, la berlina City Car perfetta anche per chi è neopatentato. La trovi sul nostro sito rattix.com Ci vediamo là, ciao!